Sta andando? Sì! Allora ragazze, prima di tutto devo dire una cosa importante Purtroppo in questi giorni ho avuto un problema con la linea a casa Il telefono non funziona, la chiavetta, ho finito i soldi sulla chiavetta Non potevo collegarmi a internet Mi dispiace di non essere passata subito Adesso, spero che la cosa si metta a posto prima possibile Ce la farò una ricarica sulla chiavetta Comunque mi dispiace, piccola parola, la chiudo, la chiudo Comunque vi saluto, vi do un bacio grossissimo So che ci siete, tenete duro per chi so che ci siete Anche se non ci sono Dappertutto, da sud a nord a sud Poi voglio ringraziare Matt Padri Che mi ha fatto un regalo meraviglioso Vi do un bacio enorme So che mi ha fatto un regalo anche il forum Sì, c'ha fame Anche a qua non c'ha fame Vi ringrazio davvero tanto Io so che ci siete, io ci sono Vi giuro che appena si mette a posto sto coso del telefono Basso dal forum Che è il mio Quindi non ha mai Io ringrazio anche le ragazze che sono tutte qua Adesso comunque devo andare perché devo ammazzare le botte Marina Quindi ne la faccio più, no? Che è sano Marina, saluta il mio forum Oh, un saluto speciale a tutto il forum dell'Adi Roberta Tutte le buonannine Un saluto speciale a tutte le buonannine Alle pazzarie Pazzarie che scusate E non è passato un anno e ancora non si capisce Alle buonannine romane A tutti i ragazzi che sono semplicemente scritte al forum E anche le nordiche Le bresciare Nordiche E poi concedetene Un bacio a mamma Un bacio a papà Un bacio al cane Un bacio a Mattia Un bacio a Mattia